salve a tutti bentornati al mio canale in uno dei miei ultimi comunicati stampa ho parlato di quanto i livelli ottimali di vitamina d siano in grado di assicurare al paziente all'uomo un'elezione migliore o di contro spesso la disfunzione elettile è associata a carenza di vitamina d ormai è comprovato ci sono stati degli studi importanti a livello mondiale 1 nel 2015 su 3400 uomini alcuni con meno numero di pazienti di uomini arruolati ma molto recenti pubblicati su pubmed e quindi riviste scientifiche di altissima qualità indicizzate la colazione stretta bassi livelli di vitamina d possono favorire ed insorgenza della disfunzione rettile ma per quale motivo essenzialmente la vitamina d sappiamo a tantissime funzioni anche quella di proteggere il sistema vascolare e capiamo bene come i corpi capirnosi siano una spugna di tessuto vascolare fra arterie bene ma ancor di più la vitamina d è in grado di attivare il rilascio di ossido nitrico la molecola che induce che dalla scintilla che fa poi scatenare l'elezione attraverso l'attivazione della gmp ciclica quindi teniamo in considerazione anche questo io ormai da anni richiedo ai miei pazienti quando chiedo gli esami per valutare una possibile causa organica nella disfunzione rettile anche il dosaggio della vitamina d che deve essere poi attestarsi intorno ai 50 70 nanogrammi millilitro i 20 30 che i laboratori analisi ci danno come sufficiente non dobbiamo ritenere la valida i livelli di vitamina d devono essere sicuramente più alti quindi è buona cosa iniziare a individuare tra le cause di un'erezione non perfetta anche la possibilità che i nostri livelli di vitamina d non siano ottimali con questo vi saluto è un breve video sono delle pillole che lasciano però dei messaggi che tutti quanti dobbiamo comunque considerare vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale